Programma più che dimezzato. Era atteso in tarda mattinata ed è arrivata l'ora di pranzo il comunicato ufficiale della Figi Cipuglia che rivoluziona la seconda giornata del campionato di eccellenza. Delle otto gare presenti in scalette, infatti, cinque sono state rinviate a data da destinarsi. Significa che ben dieci delle sedici squadre iscritte al principale campionato dilettantistico pugliese non scenderanno in campo nel giorno dell'Epifania alla sfida tra la capolista Casarano e il Terlizzi, il cui rinvio era stato già annunciato ieri sera, si sono aggiunte in mattinata altre quattro partite. Barletta, Vetrana, Molfetta Sportiva Forti Saltamura, Otranto, Brindisi e Corato Vieste, quest'ultima programmata sul neutro del comunale di Terlizzi. Esclusa la possibilità dunque di un annullamento completo del turno a causa delle cattive condizioni in meteo, un'ipotesi circolata con insistenza. Nella giornata di ieri si disputeranno regolarmente, infatti, tre partite, una al comunale di Trani tra Vigor e Molfetta Calcio, due squadre a caccia ad un immediato riscatto dopo una parte finale di 2018 opaca. I biancazzorri di Giuseppe Scaringella sono chiamati a confermare l'imbattibilità interna in questo campionato. I Molfettesi invece presenteranno in panchina la novità Pietro Sportillo. Punti pesanti in palio in chiave salvezza invece nello scontro diretto del dilido di Biceglie tra Unione Calcio, ancora alla ricerca di una migliore continuità dei risultati e un sansevero apparso in netta crescita dopo le tante operazioni messe a segno in entrata nel mercato invernale. Si giocherà regolarmente anche a Gallipoli dove i Salentini in piena corsa per un piazzamento playoff ospiteranno il Messagne.